Il momento laico e quello religioso La deputazione e la cappella Quindi secondo me bisogna trovare quella formula In cui rimane quello che è sempre stato nella storia E quindi non andare a turbare equilibri consolidati Io penso che il fatto che la deputazione di San Gennaro Abbia una sua formazione laica In piena sintonia con la curia Con quello che rappresenta il Duomo E quello che rappresenta l'aspetto religioso Si può e si deve trovare Quindi io vi impegnerò nelle prossime ore Sono già sentito con il prefetto E farò i passi necessari Giuridici, amministrativi e istituzionali Perché non ci siano strappi Ma che si continui a lavorare Con un nuovo statuto Nuovi componenti Insomma una nuova fase Che si deve necessariamente aprire Ma che se non si vada a snaturare Quello che la storia ci ha consegnato Da San Gennaro in poi E che mi pare porta pure bene Perché San Gennaro gli ultimi anni Ha trovato il modo di darci serenità dall'alto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti